Sul fronte dei parcheggi c'eravamo visti quando il provvedimento era stato approvato e aveva già sollevato tante polemiche. A breve entra in vigore, che cosa cercherete di fare in calcio d'angolo? Noi in calcio d'angolo abbiamo ottenuto finalmente una riunione con Atam e sicuramente viene anche l'assessore Gasi per far ripensare a questa cosa, far capire che per il commercio è un danno e anche un po' per gli aretini come ho detto l'altra volta. Quindi speriamo che loro tornino indietro nei suoi passi e che il commercio possa usufruire e stare tranquillo di non avere altri aumenti visto che già sono tanti in quest'anno. Quest'anno poi pesa un po' anche la situazione meteorologica perché insomma ora sono le 15 del pomeriggio immaginiamo che fino almeno alle 18 non ci sia un grande passaggio. Qui purtroppo sta pesando un po' tutto perché il caldo non aiuta quindi il centro sta soffrendo anche per questa cosa. questo non si può fare niente ma con l'amministrazione si può fare qualcosa insomma.